Luca Tondulli, sono un oncologo medico e lavoro presso l'ospedale di Bolzano e dirigo l'oncologia del comprensorio. L'importanza di questo incontro tenuto questa mattina qui a Palazzo Bidman credo che sia legato al fatto che testimoni come il Presidente, il Dottor Compacer, sia attento a quelle che sono le necessità della nostra azienda sanitaria e di tutta la popolazione dell'Alto Adige. Questo momento è servito non solo per la presentazione ufficiale dei nuovi primari, dei nuovi direttori dell'azienda sanitaria ma soprattutto per creare un momento di confronto e di condivisione. Ciascuno di noi ha potuto conoscere direttamente anche per chi come me è qui da poco tempo i colleghi che lavorano presso l'azienda e trovare un momento di confronto attraverso il quale poter stabilire dei rapporti che ci porteranno sicuramente a migliorare la nostra attività assistenziale per la popolazione locale. Questo nuovo impegno per me è sicuramente un'attività molto sfidante, sia perché io provengo da un'altra regione, da un'altra realtà e quindi mi vengo a confrontare con una realtà diversa rispetto a quella con la quale ero abituato a lavorare. Questa è una realtà, come si diceva questa mattina multiculturale dove ci sono persone, professionisti provenienti da diverse aree, con un diverso background e con una diversa storia di tipo professionale. Credo che solo confrontandosi tra di noi, ognuno portando il proprio know-how, possiamo cercare di migliorare quella che è l'assistenza dei pazienti dell'Alto Adige. Per quanto riguarda l'oncologia sappiamo come questa sia la branca della medicina che più di tutte probabilmente negli ultimi 15-20 anni è andata incontro a un netto miglioramento dell'assistenza e della cura dei pazienti. Grazie alla ricerca sono stati introdotti nuovi farmaci, nuove procedure, nuove tecnologie che hanno migliorato in maniera significativa sia il tasso di sopravvivenza dei nostri pazienti ma soprattutto il tasso di guarigione. Quindi la sfida che noi ci troviamo ad affrontare è quella di ulteriormente incrementare e migliorare la possibilità di cura dei nostri malati attraverso la condivisione multidisciplinare nell'ambito dei tumor board, delle reti oncologiche aziendali e provinciali e incentivare la ricerca clinica.